Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Voi avete l'idea che l'umore degli italiani sulla guerra sta cambiando oppure meno? Io credo che l'umore degli italiani su questo tema sia stato molto chiaro e molto spaccato sin dall'inizio. Ovviamente le argomentazioni sono diverse e sicuramente c'è anche una parte di popolazione che in questo momento non prende in realtà una posizione. È chiaro però anche che quello dell'Ucraina e della guerra in Ucraina è invece un tema assolutamente derimente per la geopolitica, per la politica internazionale. E credo che qualunque dichiarazione venga fatta da chiunque la posizione di Fratelli d'Italia e del Presidente del Consiglio non cambierà. Noi siamo stati molto netti, molto chiari a prendere una posizione sin dall'inizio a sostegno dell'Ucraina e della libertà dell'Ucraina, perché dobbiamo sempre ricordare che è stata l'Ucraina ad essere invasa e non ha fatto nulla per esserlo, per cui evidentemente c'è un tema di democrazia e di libertà che va tutelato, soprattutto perché siamo proprio alle porte dell'Europa. E quindi inevitabilmente questa posizione, che è quella dell'inizio, è una posizione che è sempre stata mantenuta quando eravamo all'opposizione, a maggior ragione rimarrà la stessa adesso che siamo in maggioranza. Sicuramente c'è un po' di malcontento determinato evidentemente anche dagli effetti della guerra. Ed è poi chiaro ed evidente che tutti vorremmo la pace e tutti vorremmo che la diplomazia funzionasse, però evidentemente non è così e quindi è inevitabile che l'Italia sia con la Nato, con il gruppo atlantico e con l'Europa a fianco dell'Ucraina. Dopodiché è normale che ci siano posizioni diverse, che ci siano anche sentimenti diversi rispetto alla guerra, ma insomma noi in questo momento il Presidente Meloni rappresenta tutta l'Italia, rappresenta il governo italiano, rappresenta la posizione dell'Italia all'interno dello scacchiere internazionale. Credo che questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Quindi questa posizione ha poco a che fare con una scelta di opportunismo elettorale. È una scelta fatta nell'interesse della nazione, nell'interesse dell'Italia, del posizionamento dell'Italia all'interno della Nato e dell'Europa. Quindi credo che ci siano veramente pochi dubbi sul fatto che rimarremo in questa posizione accanto all'Ucraina. Oggi su questo poi tra l'altro anche i giornali sulla posizione italiana parlano anche della possibilità di fornire i caccia italiani. La Repubblica parla di Tornato e AMX, si parla di 5 caccia italiane. Tra l'altro il tema proprio della copertura aerea è sempre stato invocato da Zeleschi come cruciale. Credo che sia pronto anche Francesco Specchia di Libero. Francesco, buongiorno. Grazie.